Chiara Ferragni Chiara Ferragni, sen laurente Bulgari per l'AMFARE Gala Un look molto sensuale e glamour per Chiara Ferragni all'AMFARE Gala, l'influencer di Cremona non poteva mancare e si presenta a uno degli eventi più importanti della MFW con un abito super sexy e un collie indimenticabile Chiara Ferragni sceglie sen laurente Bulgari per la cena dell'AMFARE Un look davvero elegantissimo e sensuale per la cena di gala dell'AMFARE, Chiara Ferragni ha deciso di indossare un abito di sen laurente, che ha attirato gli sguardi di tutti a uno degli eventi più attesi della Milano Fashion Week Tantissime le star e le modelle che affollano il blu e carpe e tutte per uno scopo più che giusto e umanitario, AMFARE, infatti, è l'acronimo di American Foundation for I Tese Arce e grazie alle tradizionali cene di beneficenza sono stati raccolti circa 12 milioni di euro fino a oggi Un progetto a scopo benefico che ogni anno riscuote grandissimo successo e per il quale ogni star si prepara al meglio per stupire sul blu e carpe, è il caso di Chiara Ferragni, per esempio, che ha colpito tutti con un outfit chic e sexy al tempo stesso Il mini-dress di sen laurente Total Black presenta una profondissima scollatura sul décolleté, avvolto in un velo di pizzo nero finemente ricamato che ricopre tutta la struttura dell'abito, terminando con voluminose piccole balze nella parte anteriore e posteriore della gonna Nella foto scattata appena prima di uscire, Chiara non indossa la giacca in pendante e mostra tutta la sensualità dell'abito che, nella parte superiore, presenta spalline stringatissime a sorreggere il corpetto Total Black Ma parliamo degli accessori, che risplendono di luce propria nelle immagini, avvolgendo la fashion blogger più in del momento in un turbinio di brillanti argento e oro Come avevamo già visto per uno degli splendidi outfit sfoggiati dalla Ferragni alla mostra del cinema di Venezia, dove aveva stupito con un mini-dress con strascico stile abito da sposa, l'influencer presenta un collie meraviglioso per completare il suo look Si tratta della collezione Serpenti di Bulgari, che avvolge nelle sue spire di diamanti l'elegante collo della neo-trentenne Chiara Ferragni Weekend molto importante per la sua collection Prima della chiusura della Milano Fashion Week, Chiara Ferragni doveva ancora presenziare a un evento per lei molto importante, si tratta della grande inaugurazione del suo primo flagship store, che ha aperto quest'estate nella capitale italiana della moda I fan non vedevano l'ora di incontrare la loro Beniamina, che aveva promesso di accoglierli nel suo shop personale alle 16.30 del pomeriggio, un folla di migliaia e migliaia di ammiratori Oltre 4.000 secondo un post di Instagram si è accalcata fuori dal negozio e non vedeva l'ora di entrare Chiara non si è risparmiata, come sempre, e ha cercato di accontentare tutti posando per le foto con i suoi follower più appassionati e mostrando a chi entrava la sua nuova collezione con l'occhiolino Glitter e brillantini risplendono ovunque, dalle pareti dei camerini, alle scarpe, agli accessori Nel giardino privato, inoltre, è stata allestita la Chiara Suite, ovvero una lussuosissima camera da letto su cui trionfavano gli articoli di punta della nuova linea della Chiara Ferragni Collection Grazie a tutti